Musica Nome Gabriele Piero Cognoma E giuri Colaci Animali domestici Molti canarini Nessuno Mi vuole manco l'oro Vabbè Età Undici anni A dicembre dodici Dodici anni Perché non hai mostrato la faccia A Iscritti Perché Perché Sennò a mille iscritti Non ci arrivavo E Ancora per i mille iscritti Ci vuole Comunque la faccia L'ho mostrata già dal primo video Quindi È una domanda Rivolta a lui Infatti Vai Squadra Mila Lecce Milan Juventus Lecce Colore preferito Rosso Giallo Tutte e due Voco Perfetto Perché Perché Ho aperto un canale youtube Perché Era bello Io invece L'ho aperto Perché Ho preso Spunto da un mio amico Che si chiama Il Mickey L'ho preso Spunto da un mio amico Che faceva sempre le live E dicevo Facciamo live Facciamo live E lui diceva No non mi va Non mi va E quindi Io ho fatto un canale Che almeno potevo fare Tutte le live Che volevo Ha Che atto usi per youtube Me l'hanno chiesto a me Comunque Io uso Kinemaster Craccato Io invece Non so come si chiama Usavo Kinemaster Ma non lo uso più E cosa usi? Non so Come si chiama Però è una pabella Se lo chiedete Chiedetelo Ok Vai Il narratore Hai attivato La monetizzazione? Allora No Perché Non ho 4.000 Ore di visualizzazioni E neanche 1.000 iscritti Però No No Perché adesso Ho 1.000 iscritti Quando uscirà questo video Quindi Loro E poi Io ancora Come ho detto Già Per i 1.000 iscritti Ambo Ho già 1.000 iscritti Il tuo canale è sotto In descrizione Ovviamente Andatemi tutti quanti A seguire Perché Vai avanti Il narratore L'inglese È un'opinione What? What? È un'opinione È un'opinione Un'opinione Grazie a tutti.